definita ed è troppo in contrasto invece con la parte definita e gli dico anche che che le mani le vorrei o unite che si vedono solo le maniche oppure che si vedono proprio le mani giunte e poi ha il ciondolo che se me lo definisce un po di più perché non non mi piace non lo vedo sgorpio io per il resto poi è bello il viso è bello il cappuccio è bello il vestito è bello noi parlavamo che lo avevamo bello il vestito è effettivamente è venuto un bel vestito no ma secondo me è bello solo che non capisco le mani onestamente c'è le altre cose non possono anche stare bene anche se sono più astratte diciamo ma onestamente sono le mani che tipo non capisco perché le ha messe in quel modo e c'è sempre tipo no onestamente dopo tutte le richieste che mi ha fatto di rinvio cose pagamelo prima che ti mando gli sketch cose tutte giuste ah per carità però io voglio anch'io voglio richiesto un bel lavoro vabbè quello ovvio mi chiedo che si è preso già doveva essere quanto aveva lui nella nella gig 6 giorni se ne ha presi 2 e ora se ne ha presi altri 5 cioè noi abbiamo fatto la giga abbiamo ordinata il 13 e oggi ne abbiamo 25 quindi è un pochettino un po troppo tempo secondo me si e poi dopo questi qua gli chiedo a mattia se si accolla per 90 euro 3 carta che comunque non deve fare assai così poi abbiamo fin poi mancano gli arcangeli mi pare basta dovrebbero mancare solo quelli maa ma è Gwen mid o Renekton mid penso è Renekton non piglio questo qua comunque si con questi due Diego ci stanno a botte Diego comunque si è Renekton mid perché si è bannato la cassa di Renekton mid perché si è bannato la cassa di Renekton mid perché si è bannato la cassa di Renekton mid yeah vabbè almeno che non poteva piccare Renekton mid oh il cane ha ha valerio e quindi allora è nasus support sicuro con Tristana e poi Gwen top e Renekton mid si nasus è stata la partita allora è divertente che praticamente ormai puoi giocare qualsiasi cosa ovunque infatti in possesso non si capisce un cazzo vai nasus ovunque è flex no? si cioè tu non l'hai cambiato penso che ti sta dicendo nasus nasce come counterpick solo ed esclusivamente a 0 con la doppia b perchè 0 è velocissima a velocità di movimento i mondiali sono in 29 ma tu c'hai la skin con il bordino bellissimo non so il perchè non è che l'ho comprata forse l'ho annusata perchè tu o l'hai droppato o l'hai comprata prima questa qua l'ho comprata con il negozio è stata una delle pochissime skin che ho comprato e forse per questo perchè l'ho comprata non l'ho trovata però non ne sono sicuro perchè per esempio ziggs non l'ho comprato ziggs odissea e ce l'ho il coso non l'ho non l'ho non l'ho non l'ho non l'ho ma per lì si nella maestria parte con la Q? no no ma per lì si nella maestria parte con il gank ma madonna viola è bellissima quel renekton porco giuda è vero è troppo bello è troppo bello arrivo arrivo che cosa ne? si ci ha passato ah mi hai guinato sto andando qui ok vieni 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 possiamo andare sul renektono se sposti si ok va bene se passa da qui muore è morto? ahahah ahahah damalina sto andando qui minchia c'è Asus c'è anche Diego porco giuda quando giocano così compare non c'è niente da fare sono 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 più forti semplicemente vieni vieni beh ma qui guarda questi qua che fanno qua che se venivano da me vieni ok vieni per le milline jogo confronto un un messi era un un era false lux Sì Sì Possiamo fare un po' di danno su questo? Io sono a livello 3 Ma l'altro è che c'ha il red di sto pizzo? Che c'ha? Che scassa un po' i coglioni Un po' piego da me? Vengo da qui Da il windwall Va bene Il windwall però con lo smartcast è brutissimo Penso abbia regolato Sì Che bella la top Che non si sa niente Oh Sono qui Ma perché non faita? No io Guarda io ci muoio Perché non ci ha faitato Non ho veramente parole compadre Non ho veramente parole Non so dove sono Forse sono al top blue Sì è molto probabile Vabbè Non ci possiamo andare Nekton è bot Viego è il timer del mio blue Quindi è sicuro al mio blue Loro sono riusciti a farsi gangare con la guardia Nekton è con lui Garanekton Dio Viego mate Viego Vigo Mostrano Il trionfo. Missa la bot vero? Il trionfo, si, missa la bot. Non lo so manco io com'è che non sono morto, comunque. Cioè, nice timing o troppo un po'. È stata bellissima la Q. Eh, la tua Q. La Q. Le Q. Hai il blu. Le Q. Sperti. Oh, il blu è il red. Ok. Ergo Viego adesso andrà al sublu. Credo che Lux abbia usato lo stopwatch per guardare, perfetto. Eh bene, lei ci sta. Spero abbia guardato a quel punto. Viego è lì, come già premeditato dalle Sacre Scritture. Ok, io sono qui pure. Ma no! Ho perso la visione sul target che vuole voltare. Guarda qua. Ok. Io ho pushato. Lo possiamo fare il drago, penso. Potrebbe essere guardato, comunque. Se hai modo pure di tankartene un po'. È un scelto. Perché sono anche chi? Per Enecone Smarth e di Angoro. No, ok. Guardate, è rimasto lì. È giusto. No, no, non ce l'ho la Smarth. No, è giusto. Niente Smarth, forse dirà. Oh. Ok. Le Palle dirà. Il drago al lato dirà. Mi degno. Attento l'oretto è misso. Eh sta andando verso botte sicuro Si è qui Renato Secondo me devi lasciare Non le possiamo salvare Deve stare a giugiarlo in faccia Si però che cazzo ce l'ho pingato Lo sapevo non l'hanno visto Guarda qui, ping qui e ping qui e guarda qui E non sono beccati Se passa da qui non gli possiamo fare il danno No l'ho passata lì, è bravo Lux si fa dai vipers C'è proprio tagli le kill Eh si ma questo qui è intare praticamente Diego qui con Gwen pure quindi Vengo? No vabbè Non ho solo cercato Vengo top Vengo top Vengo top Eh Renekton lì Ha pure dato dip tipo qua forse C'è il naso smitte bot Il naso sta revolando Fino di novità Non lo so Ma non lo so Possiamo fare unino In bo Non lo so qua Quando si vanno con garlo stessi? Si Vengo top Posso provare a venire Ma quella parola non ha capito Ok, arrivo Con occhio anch'io, la piglio Quando corri? Non so Questa è le twistness sta po' Guarda Gate che va 1v1 contro Renekton in faccia Ma c'è naso su qua Vengo vengo E' al livello 6 te lo gran ammazzi Ho messo dopo il doppio muso di te Te le muori Bravo Potrebbe venire Diego C'è Renekton Ok Diego è bot Diego è bot Metterà questo qua What? Addirittura bravo Vengo a skisshot Tutti Nel senso il mio wind è utile contro di voi Si, gli blocchi la w Penso anche la q Ok W lo stun La r non credo Ti ha Potresti forse pure bloccarli da E? No, forse no Nonno, ma hai cazzi danni qua Secondo me sono 3 mid Io sono qua in caso Non mi faccio vedere Io non lo so Ho paura che mid dai Io sono qua, quello l'ho guardato Eh, però Eh, tutti bot Prendo la Tor Non la prendo più la Tor Eh, vabbè, allora mi volo Lux muore? No Ma what? Perché loro hanno le bounty? Non mi sembra così tanto in favore nostro sta partita Ma che cazzone so Cioè, forse perché abbiamo più kill Questo qua? Eh, guardato Guardato qua Eh, Renekton top Ma sto drago Io push me Prendo anche la Tor Giusto, giusto Eh, abbiamo bisogno che vieni Ok, arrivo Subiego che entra Figuro Minchia, sono lontano Eh, no, vabbè Io ho sbagliato Vabbè, ma penso muore Ok Questa qua Qua è Cioè, Gwen È brutto quello sta facendo la bot Vabbè Renekton dov'è? Non lo so Potrebbero essere qua Lo slow ward Io devo back Becchiamo lì Ok, non ci sono Gioco, te l'ha startato No, invece ho Vabbè, io vado Mid, se no Vabbè Viego mid Ok, non lo sanno bene Non penso lo sappiano Perché Io non sono lì No, no, non lo sanno Renek è top Comunque Renekton Renekton verso mid Lo prendiamo? No No Certo Rispettato 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 Tristana Nasus Salgono da qui Occhio Ok Eh, sono qua Infatti Arrivo Arrivo io Vabbè Quando sei vicino Comincio a premere R Occhio 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 Va bene così Cosa io sono Play No, non so Ok Non saprei descrivere Questa play Sì, tu secondo me C'hai dei bei dan Loro sono Trettangosi Pro Via con mid Io Puscio No Troppo Prendo la torre Ok Ok Renekton è qua Però non so Diego Non l'avevo visto Diego era tipo qui Secondo me Al suo rosso Eh C'è Drago In 40 Provo a scendere Non so che Agra No la mente Ok Ok Nasus è top Che non sarà Ok Viago qui Gwen Bot Granekton Sono pure Tipo qua In zona Io ci sono Se vogliamo Oh Eh Occhio qui Però Viago qua Viago su di me Qualcuno può venire Vengo su di te Però sto un po' Ok Non è reteggi No no Vabbè L'ho buttato via Per non morirci Dai Ma che cazzo Ma quanto ci vuole Ok 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 Bello Eh Drago Eh sì Io ho pochissima aiuta Però Possiamo provare Io ancora la ultima Ok Io no Va bene Vado con quello Ok Ok Eccolo Madone Sì 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 Patron Sono tutti Muoio No Oddio Occhio se sono tutti Bello Bello Buono Non erano tutti Oppure se ne sono fottuti Di Nasus Ma secondo me sì Perché prima erano con lui La push Questa è back Mi raccendi Mi sa Dopo questa mi faccio death dance Quella danza Quella danza Oh I will crush this world Beh Vedete grancacacabbo Bellissimo Quanto... Madonna! Ma che è? Ma c'è un... c'è un... c'è un... c'è un... c'è un primo HP Eh praticamente è tipo tank, c'è solo la botta Eh, ho tank, sì Chia, non sentivo quel termine da... Buon botto Io vado da Tristana... Oh, che è? Tristana, Tristana è bello Tristana secondo me non pusha proprio di così Ah, ma è pure guardato qua, no, ha beccato Oh, Diego! Diego è buono Sto premendo R Sto premendo R No C'è anche Tristana Ma sei pazzo Dov'è? Dov'è? È qua quello È qua, è qua Lo sapevo No, muoio Quella danza ci voleva qua Nooo Ma non lo sapeva, cioè... No, vabbè, sono passato da sottotorre Non lo sapeva L'ho trollicchiata un po' No, vabbè, ho trollato perché io ho flashato in No, vabbè Io però Diego per cui già doveva morire Dovevamo andare su cose Su Tristana tutti e due Invece sono andato su Diego Che era sottotorre per questo L'ho trollato Però vabbè, tranquillo perché Gate Ci sta facendo i Raptors, quindi... Ah, sì Sì Nib, come forse cade... Sì, ok Un guarda Nekton è grosso, però... Non lo so Potrei anche farmelo non più Tu sì, ehm... One shot è sicuro che Gate looks Eh, giocato è bello grande però Io sono qui Arrivo Vabbè che sono ammazzito in giro Ma non lo so, sai? No, forse no Eh... Gli ho dovuto mettere pure l'ignite Perché non era grosso Beh, quello sì perché lui si recupera un tracco di mira Eh, vi ergo qui? E' arrivato Ander Ander, ma hai ultato? Eh, ma è un robocco Ma che fa? E' anche Lux Mi sono staccato Allora, 38 secondi alla soul Potenzialmente, quindi Mi ho becco e vado lì Ok, io penso mi recupero la heal Io, allora, vado là Deve essere portato Eh, puoi andare Puoi farti un giro qua Ci potrebbe essere viego Ma in realtà potresti anche venire Arrivo, arrivo, su di lui, su di lui Io ormai ti immagino Tu, 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 tu C'è stata una volta L'ero con Mirko Si sentiva Che faccio Bella, questa qui Si sa che tra qualche mese Finirà Sulle clip Io non ho veramente idea Di quando usciranno Tutte queste clip Perché fai conto che Ne devo pubblicare 400 Vabbè, buono A me ne mancano No, di mancarmi Non me ne mancano Probabilmente smetterò Di pubblicarle Piuttosto che Non lo so Però Cioè, fai conto che Al momento C'ho una Una al giorno Di solito ne pubblico Non di più Forse quando non stream Ne pubblico qualcuna Però veramente Cioè, buono Troppo materiale Che ora direi Mi faccio Questa Morta alla demand Mi ricordo Che devono morire Anche la BC La BC cos'è? La BC No, vabbè Ma me la faccio io Ah Ok Ok Giochiamo per il Baron? Sì Ma tipo Anche tipo qua Ho trollato Non sono arrivato a bussare Vabbè Hanno Hanno rimediato Dal mio errore Ma peccato che non hai ultato Non ci sono Perché mi ha stonato Non è che Sì, ho visto Allora, due per due Comunque alla fine Quello gran push Se loro si fanno il Baron Comunque perdono La torre Dell'inipo No, no, continua Continua No, 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 no Abbiamo tempestato Eccoli Lo sto clipando No L'ho smitato Lui non l'ha smitato L'ho smitato io È rimasto tipo 300 C'è uno Perfettissima Vabbè Hanno perso la torre lì Quenne non ce l'ha Tristana non l'ho visto Se era io No, non ce l'ha niente No Ok Ma comunque Ho 1-7 Tristana Madonna Non l'ho visto Gwen Da me Però probabilmente Non è solo Da me Da me No Viego è lì Quindi è solo Ok Sì Sì È sola Perché due sono mid Nasus e Renek Nasus adesso non c'è più mid No, è ancora mid Sono due mid Viego è bot Tristana potrebbe essere top No, è bot pure E allora era sola Io vengo mid Mi metto un ammazza quello Però penso basta Sì È assassino Ammazza uno e poi basta È un assassino Eh ci sono io Sono quasi da No Mi ha rubato il red Ah vai Ora lo vediamo Ci sono? Cosa mi ha ucciso Cosa mi ha ucciso Items Ah la death dance Ok Dovevo condivido Va bene Va bene Io quello è gigante Oh Figlia quello Ma quanto è ma solo Mi ha ucciso è una minchia Che tilt Torni Torni Perché scappa Un minuto all'elta Un minuto all'elta Oh Diego top Diego ancora top? No però l'ultimo all'elta No perché? Che ti penso muoia pur Che ti penso muoia pur 28 secondi Eh quella lì però respawna dopo Però noi volendo abbiamo due smite Gwen è ancora top Ha il TP? No Non ha il TP quindi non può venire Madonna mia Dai Forse lo potrebbe uscare Eh io tamboreggerei in realtà Non lo so Però Gwen Allora No Gwen è ancora La fa a difendere Lui? 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 Bello Lui è ancora Lui è ancora Lui è ancora Lui è ancora Ma no Devi difendere lì Difendere lì Lui è ancora Ebbene Goal no? Si No Debrebrook si doveva difendere Lui è ancora Lui è ancora Lui è ancora Lui è ancora Le 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 in caso ho splitto top dato che comunque vabbè intanto regolò l'ordech 2 e 7 in realtà si la top si dovrebbe prendere ma la mid è pure presa bene no in realtà dobbiamo fightare abbiamo questo drago che dobbiamo usare è troppo forte vengo a fightare possiamo anche stare quando siamo tutti insieme si si vabbè è morto quello quello muore va bene muore anche lui no va bene lo scappo io sono pronto sto spammando no vabbè se piglio la Q la puoi spammare beh prendiamo questo qua tipo in libertà lui può tangare le torri volendo Diego ci sta sfogliendo i minion non può tangare non vuole farlo ma proprio perché sto tangando io Diego Diego oh ok mi ha matto per te non mi ha visto ok adesso dovremmo vincere guarda non mi ha fatto no ok abbiamo ancora il drago no volendo ce lo possiamo ammazzare Sì, non la mi sa Nooo Ti è mancato un pelo Guarda mamma come stai per Onyx E ai tempi da... Onyx Shogat Mi ha fatto più danni di tutti Sì Bella partita Grazie Grazie Grazie